La fortuna di Oria tra il VII e il X secolo è dovuta soprattutto alla sua potente e sapiente comunità ebraica, tra le più illustri e prestigiose d'Europa. La città ha fornito innumerevoli filosofi, poeti e medici. Domani, in occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica, si terranno due distinti iniziative. In primo piano l'aspetto storico, culturale e spirituale, legato alla cucina ebraica, sapori antichi che potrebbero far gole agli imprenditori. Maria Lucia Carone, sindaco di Oria, ci spiega come la comunità oritana sia fortemente legata alla cultura ebraica. L'Europa ricorda gli ebrei, ma soprattutto la cultura ebraica e il cibo ebraico. Oria non si poteva sottrarre perché c'è un insediamento ebraico. Infatti, intanto è il secondo anno e Oria sta partecipando a queste iniziative a livello europeo ed è stata anche inserita nel contesto perché in effetti a Oria abbiamo un quartiere che continuiamo a chiamare quartiere ebraico. L'ingresso a questo quartiere è intitolato a un personaggio importante di quel periodo che è stato un periodo verso l'anno 1900-1000 d.C., periodo in cui vi è stato un esodo di ebrei che si sono insediati in quella zona. Rita Labbro Francia, consigliere comunale, illustra invece i contenuti della giornata divisa in due parti. È previsto un intermezzo musicale con la cantante Nadia Martina, accompagnate dai maestri Fabio Furolo e Gianpaolo Saracino. Domenica avremo nella mattinata e nel primo pomeriggio la possibilità di visitare presso la Biblioteca dei Pace Lombardi Sita nel Palazzo Comunale la Stelle di Anna, che è un reperto importantissimo, uno dei più importanti probabilmente della presenza ebraica in Oria. Nel pomeriggio invece si entrerà nel vivo proprio della Kermes e si parlerà nello specifico del cibo kosher, che è la tradizione proprio per gli ebrei legata appunto alla Torah.